a Priverno si gioca la quarta giornata del campionato di serie C2 Connect contro il Minturno squadre subito schierate al centro del campo che partono forte al secondo minuto c'è l'occasione per la Connect per passare in vantaggio ma Parisella spreca dopo qualche secondo c'è invece l'occasione per il Minturno ma che non trova la via del gol passano tre minuti esattamente e al quinto Moreira grazie allo scambio con Anderson porta il Minturno in vantaggio all'ottavo e invece è ancora la Connect a portarsi dalle parti di Saviano ma non trova a non riesce a gonfiare la rete qualche secondo più tardi invece ancora il Minturno a farmare e a pulire i Lepini questa volta è Anderson due a zero per il Minturno colpito ancora una volta la Connect a tredicesimo minuto c'è il gol di Daniele Riso sprendita l'asse insieme ai verde oro Anderson e Lini e c'è il gol del tre a due per la formazione di Andrea Cardillo al sedicesimo minuto c'è l'occasione per il Minturno per per allungare nel risultato c'è un atterramento da parte del portiere Pappa il arbitro decide per il calcio di rigore dai sei metri si incarica Anderson che batte Pappa per il quattro a zero ventesimo sempre della prima frazione di gioco il Minturno allunga cinquina il per la formazione del Sud Pontino con Enrico di Stasio un minuto più tardi ancora il Priverno prova a vivacizzare la sua manovra e impensierire con Giovannelli Saviano nulla di fatto ventiquattresimo sempre del primo tempo c'è il sesto gol doppietta personale per Daniele Riso dalla sinistra un scarica un bolide da fuori area al ventunesimo un minuto prima della ripresa il tiro libero di Anderson contro Pappa il portiere soppone e si va al riposo sei a zero per il Minturno che con la prima frazione del gioco ci trasferiamo nella ripresa al quarto minuto subito Minturno ovviamente ma la traversa dice no al verde ore Moreira quinto minuto di gioco gol di Anderson completamente a porta sguarnita c'è il rigore invece riclamato dalla Connect all'ottavo minuto di gioco si incarica Spagnoletto e il Connect accorcia se non di poco però le distanze uno sette il gol ancora a corcia sempre Spagnoletto sempre reazione vementa della Connect al tredicesimo minuto la gara si chiude proprio definitivamente con l'otto a due finale con il gol di Moreira al ventesimo minuto Minturno batte Connect otto a due canale l'ottavo salto salto